Io ho accolto con entusiasmo questa iniziativa promossa dal Chivanis insieme all'Anfas, con loro abbiamo fatto tante cose insieme e tante ne faremo insieme. Prendersi cura di uno spazio verde è la cosa più bella che si possa fare, il regalo più bello che si possa fare alla propria città, quindi io vi ringrazio. Presto faremo tante altre cose insieme, ma grazie perché oggi è la giornata mondiale della Terra e noi la festeggiamo così. Anche noi abbiamo accolto con molto piacere ed entusiasmo questa bellissima iniziativa di questo giorno perché anche noi volevamo contribuire ad attenere pulito questo spazio per far sì che tutta la cittadinanza ne possa suffruire. Siamo stati subito contenti noi come Nucleo Operativo Teate di partecipare a questa iniziativa, essendo la giornata mondiale della Terra, ma siccome noi anche come protezione civile siamo impegnati anche a fare AIB, spesso e volentieri ci troviamo in zone di montagna anche a fare prevenzione, quindi molto sensibili su queste situazioni. Grazie a tutti. Grazie.